buongiorno cari amici di montediprocita.com siamo qui da SC non sulla scuola ad augurare e riprenderà a me no Alinzi non di fare pubblicità ad augurare un felice San Giuseppe a tutti i papà a tutti Giuseppe, Pino, Peppino e derivati vari a tutte le Giuseppine, Pina, Giuse e derivati vari ma soprattutto al nostro sito che compie 14 anni ben 14 anni che non è poco diciamo tra l'altro tra l'altro stasera per questo evento perché le Giuseppe devo spiegare per questo evento l'accoppiata storica di fuori rete è composta da Franco che è questa cosa schiattata e poi c'è Cristina questo qua più piccolino invece è Tullio che stasera piano 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 sta cercando di rubare la polpetta dal piatto di frango infatti questa sera frango non ci sarà e si gira il piatto e ripetiamo a Tullio vicino a Cristina speriamo berrà anche io lo dico per te eh io ti voglio bene tu lo sai ma state accorto a Tullio che mi fa buttire l'anno passi fatto io lo dico per te tu lo sai comunque terminiamo con gli auguri consentitemi un augurio personale al mio piccolo cuginetto da voi mi manca un cugino il figlio di mia cugina che compie un anno in questa giornata così particolare tanti auguri Michi un bacio da zia Armand grazie a tutti